i carissimi di wb channel e con grande piacere che questo speciale dio protagonista ha come ospite alberto rocco maria sala alberto lo conosciamo ormai fa parte della nostra grande famiglia e come presidente del gruppo wb channel come protagonista del libro l'ultimo del dei dirosauri e poi anche perché ci accompagna ogni tanto a volte con il suo salotto e a volte anche con degli editoriali molto importanti come quello che abbiamo potuto vedere qualche giorno fa e lui è il protagonista di questa puntata ed eccolo qui con noi ciao alberto buongiorno a tutti alle nostre amiche e amici che bello vederti è sempre un piacere averti nostro ospite in wb channel in collegamento con milano e noi dai nostri studi cerchiamo così di rendere viva la televisione e grazie anche al tuo aiuto perché comunque è un grande contributo quello che ci stai dando in tante opportunità nella strategia editoriale in tutto il nostro percorso bene bene sandro permettimi di interromperti ti do uno stop oggi che vedo vedo dai dalla luce dei tuoi occhi che ti ho colto di sorpresa caro amico mio eh allora tutti ti chiederai ma che cosa ha in mente eh il il mio amico alberto sala eh oggi come direbbero in eh in certi luoghi oggi oggi te tocca oggi tocca a te caro Sandro caro Sandro Sebastiano Ravagnani e allora permettimi innanzitutto di fare una breve premessa perché stavolta caro Sandro l'intervista la faccio io a te ma non come presidente ma come giornalista quindi preparati ti vedo eh sono contento perché se se mi piace mettere eh in difficoltà le persone in modo che così eh riescono a tirare fuori quello che a volte non riescono a esprimere che hanno dentro allora eh una breve premessa conosco Sandro Sebastiano Ravagnani da oramai molti anni ci siamo conosciuti tramite una persona una carissima amica che si chiama Francesca e lei la conobbi durante alcune trasmissioni eh nelle quali io ero ospite eh per parlare di di sport di politica e e e di legge anche ma un giorno lei mi chiamò e mi dice guarda Alberto eh mi devi fare un un grande favore tu che sei una persona di qua di là insomma vabbè devi accettare di essere ospite su Sky di una trasmissione con il famoso Sandro Sebastiano Ravagnani e io onestamente eh rispondo dico ma sicuramente sarà famoso per voi della televisione io ma in questo momento dato che mi occupo di tante altre cose non tanto di televisione ma non mi sovviene dice no come Ravagnani uno dei padri della televisione italiana eh ha lavorato a media sette per tanti anni alla RAI ha girato il mondo è stato eh il portavoce per decenni di Moira Orfei eh ha portato ecco tanto per per essere diciamo coerenti con la situazione ha portato l'armata rossa eh quelli i i grandi la grande orchestra i cantanti da Mosca a a Milano alla Scala l'ha portati ha fatto cose incredibili ha girato il mondo Australia Cina so da per tutti allora accettai di essere ospite nelle tue trasmissioni è da lì che ci siamo conosciuti ci siamo apprezzati e poi ci sono state delle evoluzioni c'è stato un periodo molto interessante e devo dire mi viene ancora oggi da ridere da sorridere perché tu stavi realizzando un film poi per carità molto controverso all'epoca è stato visto in un certo modo per tanti motivi ma motivi che vorrei che tu ci spiegassi perché ci sono io li chiamerei i misteri di dreamland perché ci sono tante cose che le persone non conoscono e che probabilmente hanno determinato un certo tipo di giudizio nei tuoi confronti che sono convinto oggi dovrà essere rivisto o peggiorato questo dipenderà dalle tue risposte caro Sandro eh io spero di metterti in grande imbarazzo proprio perché voglio che tu sia spontaneo e dica esattamente le cose come stanno quindi concludendo questa mia prefazione questa introduzione all'intervista ecco la concludo con questa con questa situazione che ancora oggi mi fa sorridere mi hai fatto fare anche l'attore nel tuo film e è vero che io ho partecipato anche in altri film e insomma ero piuttosto avvezzo alle telecamere però quella volta tu mi dicessi mi ricordo benissimo Alberto ti chiedo una grande cortesia devi essere un interprete del mio film e io ti risposi caro Sandro ma io non sono un attore risposta lapidaria tu dovrai essere quello che sei e allora ecco l'ennesima avventura allora detto questo caro Sandro io ti chiedo innanzitutto che cosa ha determinato in te la scelta di fare televisione ecco eh eh questa è la prima domanda così che mi viene spontanea eh innanzitutto caro Alberto come sempre tu riesci a stupirmi e a miragliarvi perché eh indubbiamente non mi aspettavo tanto e vabbè bisogna essere sempre pronti no? Tu lo insegni a tutti i tuoi collaboratori e allievi per cui mai lasciarsi prendere eh dal panico e mai non perdere l'occasione per cui io ti rispondo eh accetto volentieri il tuo invito. Beh indubbiamente la televisione devi sapere che è stata eh per me un fulmine a ciel sereno perché nel 1976 75 76 77 io eh iniziavo alla radio cioè ho iniziato quello che può essere il colloquio il dialogo l'appuntamento col pubblico attraverso un programma per bambini in una radio eh una giovane radio diciamo allora era una radio pirate una radio libera radio Salerno uno tra l'altro diretta da un grandissimo giornalista che è Enzo Todaro che è stato anche lui un grande maestro che mi ha portato poi a capire meglio il giornalismo ma in realtà io facevo un programma per bambini e collaboravo puntualmente ogni giorno con l'Antoniano di Bologna quindi con Maria e Leventre e con lo Zecchino d'Oro perché trasmettevo le canzoni eh di quell'epoca dell'Antoniano quindi Zecchino d'Oro, Topo Gigio, Sbirulino, tutte quelle canzoncine che eh di cui le mamme mi ringraziavano perché mangiavano i bambini ascoltando le canzoncine. Allora la televisione la tipo dei ragazzi era al pomeriggio e io trasmettevo all'ora di pranzo dalle tredici alle quattordici. La televisione mi fu proposta perché ebbe un grandissimo successo alla radio la mia voce entrava facilmente era una voce amica nelle case delle persone ma non ti nascondo che il mio debutto televisivo fu un dramma. Andai in panico e partì con un programma domenicale che stavo quasi per rinunciare perché alla fine della puntata un po' di errori un po' di gaffe un po' perché proprio io essendo abituato alla radio non riuscivo a a concepire quell'obiettivo che mi guardava mi osservava e mentre con la radio e non vedevo ed ero confidenziale parlavo a tanta gente ma in realtà ero nella mia intimità la televisione presentava il mio volto la mia persona e quindi i miei movimenti il comportamento il portamento. Ma devo dirti che poi alla seconda puntata tutto cambiò perché feci un grande lavoro per capire meglio perché poi in realtà ci andai anche con un po' di incoscienza perché indubbiamente ero convinto che era facile non è facile tu lo sai benissimo fare televisione è un grande impegno ci vuole veramente tanto 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 lavoro ma la cosa interessante fu che quando iniziai a fare televisione ebbi la possibilità di conoscere un grande impresario Pippo Fortini che era poi l'impresario è stato l'impresario pensa di Reagan ed era l'impresario di Moir Orfei il quale mi disse ti porto a Roma e ti faccio vedere come si fa la televisione e quindi incominciai ad essere ospite di una serie di puntate di Domenica Inn con Corrado pensa che c'era era in bianco e nero c'era Fantozzi che faceva il personaggio tedesco il mago Frankenstein non mi ricordo come si chiama e c'era Tony Binarelli che faceva i giochi di prestigio era una Domenica Inn che durava sei ore e io andavo proprio ad assistere se vogliamo dire la verità portavo il caffè una volta a Corrado una volta a Paolo Villaggio però entrai nel pubblico e in piano piano ogni tanto mi coinvolgevano quindi Tony Binarelli mi chiamava per un gioco e quindi la mia popolarità era aumentata poi è arrivata la radio via Siago è arrivata radio anch'io tutti insieme a radio l'uomo della notte i misteri e poi è arrivata finalmente la grande opportunità che è stata quella sicuramente che mi ha cambiato la vita che è il canale 5 la mia prima ospitata con Mike buongiorno e poi naturalmente tanti tanti programmi fino ad oggi ecco Sandro Sandro è interessantissima questa tua rappresentazione iniziale di come così hai visto la televisione e hai partecipato per la prima volta allora colgo l'occasione ecco mi viene mi viene a parte che quello che tu hai detto mi ricorda alcuni programmi e c'era il mago Kranz chi di voi viene adesso era lui era Paolo Villaggio due cammini di Perusca esatto con i cammini di Perusca era terrorizzato perché arrivava era cattivissimo riprendeva tutti se uno sbagliava lui lo riprendeva la gente ci cascava in pieno era proprio convinta all'inizio veramente sembrava qualcosa dal vero ma la mia prossima così più che domanda è una tua così valutazione una tua visione tu io so che prendendo spunto proprio da quello che hai detto che hai cominciato a lavorare a canale 5 e quindi Fininvest perché non era ancora Mediaset mi sembra ecco il tuo rapporto con Silvio Berlusconi allora mentre io ero in Rai perché io ho un percorso di circa 3-4 anni alla radio Rai Radio 1, Radio 2 poi ho iniziato a collaborare con ho continuato a collaborare con Domenica In e ho lavorato con la Publis Pay di Marco Lavera e Carlo Bixio e anzi ho iniziato a collaborare con Gianni Lavera che era il padre di Marco che era proprio il patrano di Sanremo e in quelle occasioni ebbe in modo di conoscere Pippo Baudo Pippo mi ha sempre voluto bene io l'ho sempre tanto stimato mi ha coinvolto in tante serate d'onore dal Teatro Verdi di Montecatini e tante dirette a Roma e poi era conduttore poi di Domenica In perché dopo Corrado arrivò Pippo e con Pippo io ho fatto tante Domenica In Pippo cosa fece? C'è un incidente di percorso accettò un accordo con Silvio Berlusconi un accordo miliardario importante era uno dei primi contratti dopo Mike buongiorno e Raffaella Carrà ma qualcosa andò storto qualcosa andò storto per cui Pippo si arrabbiò tantissimo tornò a Roma e ruppe i rapporti con Silvio Berlusconi si liberò e qui è la fortuna della storia si liberò il sabato sera di Canale 5 che era di Pippo Baudo Pippo doveva fondurre un programma che sarebbe andato in concorrenza con Massimo Ranieri che avrebbe condotto canzonissima e io che ero un collaboratore di Baudo così cui nome viaggiava un po' nei corridoi ma ero un ragazzino proprio circa 30 anni quindi molto molto giovane e a un certo punto andai ospite di Mike buongiorno andai ospite di Mike a Pentatron dove presentai uno show un mio show Disney show importantissimo perché prevedeva la partecipazione di una quarantina di personaggi pensa i sei classici Disney e Biancaneve e Sette Nani quindi un'operazione americana di grande successo allora è la prima volta che i personaggi Disney smarcavano in Italia non esisteva ancora Disney Paris per cui ti dico ho fatto una figura straordinaria allora ero anche consulente della Walt Disney Italia e lì Berlusconi rimase colpito e chiamò Giancarlo Stecchi il produttore di Pentatron e disse io voglio quel signore lì quel Ravagnani portatemelo ad Arcole fatemi incontrare con lui perché ho da proporgli qualcosa e non ti nascondo che io rientrai allora abitavo a Salerno e rientrai con i ragazzi col Pullman di Biancanevi Sette Nani quindi con tutti i nostri ragazzi una torta fantastica per i 50 anni di Biancaneve di cui poi mi dimenticai le candeline e qui fu una cosa incredibile guarda ho sempre qualcosa da riproverarmi comunque la cosa bella è che come arrivai a Salerno mi arrivò la telefonata da Fininvest dalla segretaria di Berlusconi la quale mi disse il dottore la vuole la vuole a pranzo al più presto quindi mi dica lei guardi io prendo il primo aereo il primo volo il treno adesso vediamo ma vengo anche domani allora facciamo per adesso non ricordo mi pare per un sabato e io il sabato successivo a Pentador andavo non di giovedì quindi il sabato io mi recai a colazione a casa di Berlusconi ad Arcore c'era con me Giancarlo c'era Stecchi c'era Vittorio Giovannelli che poi è diventato il capo delle risorse umane direttore di Rete 4 mio grandissimo amico che tra l'altro non ti nascondo che ancora oggi ci sentiamo e mi ha fatto i complimenti anche per il libro dell'ultimo dei dinosauri e Senti Sandro scusa se se ti interrompo eh in questo racconto però ecco ti voglio ti voglio chiedere due cose per per comprendere meglio la situazione allora come mai tu eri a Salerno tu sei nato a Roma che se ben ricordo e poi sono romano sono nato a Roma ma il 2 novembre 1956 e mio padre che io purtroppo ho conosciuto pochissimo ho dei ricordi molto lontani l'ho perso che avevo 4 anni ma lui nel 1900 lui è del 21 anzi sì dell'11 mio padre e del 21 mia madre e mio padre pensa che è stato il fondatore dell'Ansa l'agenzia italiana di giornalistica ero figlio unico vivevamo a Roma io mia madre mio padre che non ce l'ha più e una zia la sorella di mia madre che decise improvvisamente ma lei probabilmente lo aveva già pensato di farsi suora e quindi rimaniamo soli io mia madre perché una casa formata da tre adulti e un bambino diventa una casa con una mamma che non ce la fa fa fatica perché è un bambino molto complicato e quindi all'età di 14 anni mia madre decide di trasferirsi in una città più piccola più diciamo più semplice rispetto a una vita complicata che era quella di Roma Roma era molto complessa e poi costava tanto stare a Roma per cui essendo una famiglia non agiata il trasferimento a Salerno per me io ho preso molto male fu molto molto rivoluzionario reagivo molto molto male e lì c'era uno zio c'era un fratello di mia madre che lavorava in uno studio legale e che in qualche maniera avrei dovuto farmi un po' da la figura paterna però indubbiamente ero già indirizzato verso tante cose e quindi mi sono trovato per caso a Salerno e ci sono stato per ben 14 anni perché io ho lasciato Salerno a 28 anni quindi dall'età di 14 all'età di 28 io ho abitato a Salerno dove ho finito con le scuole ho fatto il liceo e dove ho iniziato a lavorare sia come lavoro materiale pensa ottico invece per pratica andato di ottica ma sia come animatore e come entertainment per cui ecco che nasce la radio nasce la televisione e nascono gli spettacoli perfetto ok ok bene bene questo perché altrimenti non c'era l'anello di congiunzione ma adesso io tornerei un attimo e ti ti chiederei se tu puoi avere puoi descriverci e così la mia visione ad Arture Arture ecco qualche episodio qualche episodio certo della tua collaborazione con Berlusconi nell'ambito di allora io non ti nascondo che Berlusconi non lo sapeva ma io già nel mio piccolo collaboravo con Maurizio Semandi che faceva Superclassifica Show collaboravo con Alessandra Manera che faceva Bim Bom Bam e quindi già conoscevo attraverso lo zecchino d'oro conoscevo Cristina Adrena e grazie a una casualità fui chiamato da Bidi Ballandi per presentare a Cava dei Tirreni il primo concerto di Miguel Bosè Bidi Ballandi era anche l'agente di G. Andrea per cui io mi trovai ad Arture con un percorso già consumato ma in modo inconsapevole tanto vero che quando Berlusconi seppe tutto questo mi fece tante domande però mi disse di descrivere quello che poteva essere un programma per il sabato sera in 5 massimo 6 righe e qui fu tremendo perché io che sono uno che parla tanto e che cerca di spiegare hai capito non hai capito ma tu devi sapere insomma mi mette al muro perché in 5 righe era impossibile ma mi viene un'idea negli anni precedenti ero già collaboratore del gruppo Orfei quindi di Moira Orfei da una parte di Nando Orfei dall'altra e Moira mi raccontava del varietà mi raccontava di Macario di Vanda Osiris e mi raccontava di come si era conosciuta col marito Walter Nones praticamente in una rivista di Vanda Osiris perché la rivista negli anni 30 gli anni 40 gli anni 50 ospitava il varietà circense cioè un numero del circo diventava un numero di prestigio quando andavo a lavorare in una grande rivista tipo Bramieri Renato Lascia il Vanda Osiris e a un certo punto mi venne un flash e gli dissi dottore ho un'idea ma se noi mettessimo insieme il varietà di una volta che lei ama tantissimo perché lui già faceva tantissimi spettacoli aveva Lazarov un regista romeno con degli effetti straordinari corpi di ballo aveva portato già le Blue Bell aveva portato il balletto del Lido di Parigi i balletti da Vegas per cui lui aveva grande cultura del varietà e dissi io ma se noi fondessimo il mondo del circo con i suoi grandi numeri internazionali provenienti da tutto il mondo dalla Russia dalla Cina dall'America ma soprattutto il brand italiano quindi il brand degli Orfei dei Togni dei Casartelli con il varietà quindi un circo ad uso di varietà ed un varietà ad uso di circo naturalmente mi deve dare fiducia cioè questo varietà lo dobbiamo fare sotto un tendone non in uno studio televisivo perché sarebbe artificiale non poter portare in televisione gli animali quindi gli elefanti i cavalli le tigri i clown fuori dal mondo del circo portiamo il varietà nel circo e quindi lui praticamente questo glielo mise in tre righe quindi fuori varietà ad uso di circo giurabilità ma perché non facciamo un sabato al circo e qui lui si illuminò e mi guardò e disse va bene facciamo sabato al circo io non mi resi conto in quel momento di che cosa stavamo parlando perché non avevo proprio l'idea del sabato sera del budget che ci voleva per fare un varietà di sabato sera in contrasto con Rai 1 per la prima volta perché Fininvest non aveva mai avuto uno scontro diretto il sabato sera e non aveva mai vinto la prima serata del sabato sera che era canzonissima storica la Lotteria Italia era intoccabile se la passavano da Raffaella Carrà partendo da Mina poi Ranieri insomma era il varietà del sabato sera di Rai 1 e per la prima volta Fininvest gli andava diciamo in concorrenza e Sandro Sandro ti interrompo perché perché se ben ricordo tu hai cominciato a sviluppare questo tipo di programmi e andarono in onda ma confermami se le mie informazioni sono esatte ma tu hai vinto anche un prestigioso premio televisivo si adesso ti racconto allora io ci tenevo tantissimo perché tu devi sapere che collaborando con il Superclassifica Show la sigla era proprio quella dei telegatti era un programma a cui la rete teneva tantissimo perché era un programma che si era distribuito in tutte le reti italiane lavorando in una privata si poteva collaborare allora tu devi sapere che io sono stato un grande lettore e lo sarò sempre di Sorrisi e Canzoni TV diretto da Gigi era diretto da Gigi Vesigna di cui oggi è con direttore Rosanna Mani ne abbiamo parlato neanche a farla apposta qualche giorno fa amica di una tua amica carissima e io volevo tanto avere il telegatto però non ti nascondo che nonostante il grande successo ottenuto nell'89 con sabato al circo io il telegatto non l'ho preso cioè praticamente sono passate ben 14 puntate con un successo a dir poco straordinario ma perché perché io andavo in onda da settembre a ottobre alla primavera il telegatto si faceva alla fine di maggio per cui non ci fu il tempo e questo me lo spiegarono poi i tecnici di poter votare un programma che in realtà era andato in onda un anno prima per cui i telegatti 90 non fu possibile raggiungere un numero di voti necessari ed essendo anche un programma nuovo quello che invece con mia grande meraviglia successa nel 91 la seconda edizione di sabato al circo presentata da Jerry Scotti e finalmente fu candidata ai delegati e io non ti posso nascondere la mia gioia quando al teatro nuovo di Milano con le tre nomination dei programmi finalmente la conduttrice se non sbaglio era Raffaella Carrà nominò sabato al circo e quindi io ho potuto avere l'onore di ricevere come autore del programma il mio primo ed unico delegato bene bene Sandro allora ora ecco arriviamo un po' a a a un a una serie di domande un pochino più diciamo profonde a un certo punto durante mi sembra la tua collaborazione con Finibes con Berlusconi tu che per attraverso di lui hai praticamente girato il mondo alla ricerca di idee nuove e quant'altro un bel giorno succede un imprevisto un imprevisto molto grave per la tua salute beh diciamo che questo è successo un po' dopo allora io ho lasciato spontaneamente ma anche perché era terminato il ciclo di collaborazione di nove anni con Finibes nel 94 e la coincidenza è stata un po' anche l'entrata in politica di Silvio Berlusconi tu devi sapere che Silvio Berlusconi la televisione la faceva in modo molto presente e interveniva addirittura sulle scenografie a volte interveniva sui testi sulle musiche sulla scelta da parte degli autori di alcune attività anche minime anche molto minime mi ricordo che ci fu la telefonata da Via Rovani che era il quartiere generale di Milano di Berlusconi che disse da domani il dottore non sarà più in Finibes sarà un uomo politico Berlusconi chiude completamente con la parte imprenditoriale e diventa uomo politico nel 94 quindi io cosa faccio collaboro ancora un po' faccio dei programmi tra cui il grande circo di rete 4 collaboro con altre trasmissioni per esempio hai citato bene con Walter Nones abbiamo portato l'armata rossa al Palazzo Ardi una grande serata di Canale 5 storica 6.000 persone abbiamo portato il Piat Nisch il Borshoi Holiday on Ice la rivista americana sul ghiaccio sono andati per tanti anni con quello rimanendo comunque l'ufficio stampa del gruppo Orfei Nonest ma la crisi grossa ma la crisi molto molto brutta per me fu appunto il 2006 il 2006 io ero stato qualche anno prima in Messico dove c'era una ho preso una malattia rara molto rara un herpes ma molto difficile da spiegare che praticamente abbassa i valori dell'emoglobina abbassa i valori del sangue insomma è una roba che poi non si riconosce subito per cui c'è stato un periodo ospedaliero molto lungo tra l'altro devo dire grazie a mia figlia che ha avuto l'intuizione di farmi cambiare a un certo punto ospedale perché ogni volta che mi dimettevano già fuori dall'ospedale svenivo e mi riportavano dentro a un certo punto dicono non sappiamo più cosa fare e ho fatto tutti gli esami possibili e immaginabili quindi il 2006 è successo che io sono andato in coma e qui è successo anche un bel miracolo perché te lo voglio raccontare io ti posso dire questo ormai eravamo convinti che fosse arrivato alla fine della mia vita e la mia famiglia era preparata a tutto questo e alcune cose erano state anche date via cioè era incominciato proprio una sorta di abbandono e io non avevo più ci credevo più insomma perché ho fatto quasi sei mesi sette mesi di ospedale e vado in coma e qui è successa una cosa che io racconto al di là del credo ma che mi ha aiutato tanto perché nell'entrare nel coma io devi sapere che ho fatto parecchie udienze con Papa Caro Luetiva e avevo sempre questa immagine forte di lui il quale proprio una volta mi ricordo mi strinse la mano e scendemmo una scala insieme ma me la strinse con grande energia e io mi ricordo che entrando in coma avevo questo Papa che mi diceva vieni cioè come se io entrassi in un altro mondo con tante anime che poi non riconoscevo ma mi sembrava di vedere tante persone che non c'erano più a distanza di una decina di giorni praticamente io mi sono risvegliato e mi ricordo un'immagine in cui venivo spinto fuori cioè mi salutavano queste anime mi salutavano le persone a me particolarmente vicine ma scomparse e c'è il Papa che mi sorride Caro Luetiva tieni conto che in quell'anno se non sbaglio coincide anche con la morte del Papa se non sbaglio un po' prima un po' dopo adesso non ricordo bene ma io mi ricordo che il Papa già non era più con noi e mi ha segnato tantissimo anche se poi invece chi era vicino alla mia famiglia mi portò le immagini di Padre Pio per carità lo rispetto però secondo me non è stato tanto il credo non è stato il fatto di essere o meno cattolico ma è stato proprio quella possibilità di un uomo normale semplice l'uomo sciatore l'uomo scrittore l'uomo del teatro che in qualche maniera mi rincoraggiava a ricominciare e da allora poi dopo una riabilitazione insomma piano piano mi sono ripreso bene Sandro allora possiamo dire che sei un miracolato sì no non mi piace no io non credo ai miracoli Alberto diciamo che mi ha dato tanta forza un uomo che io ho conosciuto super parties che ogni volta che mi incontrava mi dava delle emozioni anche perché io dal Papa ho portato anche con Walter Nones l'Armata Rossa ci ho portato tanti circenzi ho fatto tante udienze del mercoledì non sono riuscito a portare i cinesi ecco questo e lui si è dato un'influenza perché i cinesi a metà strada c'erano quasi riusciti il circolo cinese ma poi a un certo punto li hanno fermati e via caro Sandro e quindi e quindi insomma non ti hanno voluto ancora da quelle parti no dobbiamo ancora sopportarti praticamente bene allora allora ho ancora due argomenti a mio a mio avviso molto molto interessanti e te li anticipo subito in modo che così tu ti possa preparare perché già ti ho colto un po' di sorpresa però però devo dire che insomma ti stai svincolando bene te la stai cavando sai chiaramente che io scherzo sempre ma allora i due argomenti sono i rapporti in tutto questo tempo con la tua famiglia e poi gradirei te lo anticipo in modo che così tu ti possa preparare che tu ci parlassi del tuo film perché perché tu hai scritto oltre a vari libri anche un libro che ha un titolo molto particolare e che praticamente rifà la storia dieci anni dopo e anche oltre del tuo film che tu lo hai titolato in un certo modo e lascerò a te questa allora se mi mi invertirei cioè ti spiego allora ti spiego questa è una cosa che mi viene spontanea lo so che magari spiega spiega anzi no più che a me devi spiegare al pubblico Alberto allora la malattia mi ha fatto stare fuori dal mondo per un anno quindi io ho ripreso ho cercato di riprendere perché poi non mi sono mai più ripreso da allora nel 2007 anzi ti do di più 2006 2007 si più o meno si avvicinano gli anni dopo un anno di inattività mi è venuta una grossa opportunità quella di fare un altro programma e di ritornare a Mediaset con Barbara D'Urzo e ho fatto un programma che si chiama si chiamava Reality Circus era un programma in cui il Super Partis la regina la grande giudice dei numeri era Moira Orfei ma in occasione di un fotoservizio per sorrisi e canzoni tv e di un incidente che è successo in quel giorno alla presenza anche di Barbara D'Urzo ci fu una ferita grossa un incidente con degli animali al circo e Moira ebbe un ictus questo ictus non permise a Moira di poter fare questo programma e questo programma non fu come in realtà l'avevamo progettato perché era basato e costruito tutto sulla figura di Moira Orfei che è un po' come succedeva con i gladiatori dito su dito giù numero bello numero brutto e abbiamo un po' ripiegato abbiamo fatto cinque puntate l'anno successivo 2009 per una serie di motivi io sono stato nominato commissario di governo per lo spettacolo dal vivo e quindi ho dovuto tagliare i ponti con tutto il mondo del circo e di tutti gli spettacoli dal vivo perché un commissario di governo fa parte di una commissione che stanzia giudica gli spettacoli istanze dei contributi quindi che succede succede che i rapporti in famiglia andavano sicuramente bene ma questo mio cambio di lavoro non è che vedesse tanto favorevole la famiglia perché erano problemi cioè ti chiamavano chi voleva il contributo chi lo voleva di più chi non aveva le carte in regola ero continuamente pressato ma senza portafoglio perché non avevo più il mio business ecco che nasce un'idea strana un'idea che non so se oggi ripeterei ma forse sì la ripeterei per l'esperienza quella di andare a lavorare su una divisione diversa cioè il ministero è diviso in due parti cioè la sezione del ministero della cultura c'è il cinema da una parte con un capo di visione che è completamente strutturato senza avere nulla a che fare con la divisione degli spettacoli al vivo quindi l'unico diciamo possibilità di rimanere nel campo dello spettacolo era quella di girare un film paradossalmente o un docufilm cioè qualcosa che resta a che fare col cinema avevo un po' qualche idea così un po' qua un po' là perché in precedenza proprio in occasione di quel programma su Sky a cui tu avevi partecipato io ebbi anche l'opportunità di andare a intervistare alcuni personaggi in giro per il mondo e andai a Los Angeles dove ebbi modo di conoscere Franco Columbo il famoso mister Olimpia grande amico di Arnold Schwarzenegger e con il conduttore di Village Festival Ivano De Cristofaro che aveva studiato sui libri di Franco Columbo io mi sono ritrovato Franco molto disponibile a raccontare la sua vita di emigrante mi sono innamorato del progetto non ero preparato e oggi devo ammettere che avrei dovuto prepararmi di più e lavorare con più intensità ma l'ho presa un po' la leggera un po' come all'inizio la televisione per cui mi sono trovato una scelteggiatura mi sono trovato una scrittura sull'immigrazione ma mi sono trovato anche di fronte a una realtà incredibile quella di lasciare recitare che era l'unico patto perché io mi ricordo che Franco Columbo disse io il film con te lo faccio ho fatto antifilm però in tutti i film non mi hanno mai fatto recitare mi hanno sempre doppiato io il film con te lo faccio ma se non mi doppi e quindi io ingenuamente non avendo una stima un valore di cosa significasse doppiare non doppiare poi soprattutto il doppiaggio in Italia dove vengono doppiati tutti Stallone Schwarzenegger tutte le star americane in Italia hanno delle voci straordinarie di grandi attori e io con grande incoscienza sì certamente non doppiando Franco non furono doppiati nessuno degli attori e quindi ci fu un grosso problema poi nella realtà che tu stesso hai vissuto l'unico non doppiabile paradossalmente eri tu perché perché io come tu hai detto all'inizio in te ritrovai il poliziotto sceriffo l'uomo della contea l'uomo che era un po' il garante della comunità italo-americana nell'interno della storia per cui tu che eri stato in America che conoscevi la mentalità americana che conoscevi la storia delle contee e dello sceriffo del ruolo importantissimo che ha uno sceriffo più a volte del sindaco stesso per cui un sindaco sceriffo ti chiesi proprio di cercare di mettere in piedi l'unità tra le bande cercare di essere un po' il pacere e fare un po' la parte sia spirituale teorica ma soprattutto pratica energica nei confronti di questo quartiere che doveva essere in qualche maniera un esempio di unità di amicizia e di collaborazione tra le bande e qui io mi sono un po' incartato perché uno mi sono mancati i fondi perché a un certo punto il ministero per un punto non mi ha garantito quello che in realtà era scontato mi è mancata una distribuzione che per accordi c'era da parte di Stato di Luce in un momento particolarissimo ma soprattutto mi è mancata la forza dovuta anche alla malattia pregressa di difendermi tanto vero che io proprio non mi sarò proprio reso conto di quello che era successo all'epoca considera anche tutto l'investimento e qui la famiglia e qui la famiglia si è proprio praticamente incazzata proprio arrabbiata perché poi è stato un calo di tensione un calo di economia è diventato una brutta storia una bruttissima storia cioè nel senso che poi grazie anche al tuo contributo il film è andato al cinema al cinema doveva essere rappresentato come un film leggero comico divertente era stato presentato un film impegnato particolare non è stato capito anche se poi devo dirti e poi forse probabilmente ve lo chiederai negli anni tutto è cambiato ma ora ti rispondo sulla famiglia cioè io ho fatto un film mi sono giocato tutto ci ho creduto fino in fondo e lo porto avanti ma ho rovinato una regolarità ho rovinato la mia famiglia ho rovinato me stesso ho rovinato la mia vita con delle conseguenze disastrose e inimmaginabili tanto vero che poi io ho deciso di accettare un lavoro negli Stati Uniti per cercare di variare il tema e per cercare di rientrare un po' in una realtà e probabilmente ho fatto bene ma forse ho fatto anche male perché fossi rimasto in Italia a combattere e a credere in quello che facevo probabilmente oggi sarebbe stata diversa però dall'altra parte leggiamola dal punto di vista positivo negli Stati Uniti grazie a Dreamler ho imparato un mestiere che non avevo mai fatto veramente quello del giornalismo ho fondato il newspaper perché è nata la televisione e due anni dopo praticamente nel 2012 2013 abbiamo avuto un premio importantissimo cinematografico come miglior attore Ivano De Cristofalo come film italiano film straniero in America con una grande festa e quindi ho capito che poi tutto sommato ognuno la legge come meglio crede ognuno dà le sue credenziali e il pubblico poi ti giudica a secondo di quello che pensi e quindi possiamo dire che con il film con tutto quello che è nato sia durante che successivamente la tua vita ha avuto una grande svolta e e quindi sei stato sei andato negli Stati Uniti ci sei rimasto per alcuni anni hai fondato questa televisione e poi sei ritornato ora però non vorrei andare perché il futuro che oggi è attualizzato lo possiamo constatare perché oggi hai una piattaforma televisiva online che riscuote ne abbiamo le prove anche del numero degli utenti riscuote un certo successo e hai deciso di proseguire su questa strada ma questo è oggi oggi è dell'attualità io però farei un passo indietro perché perché io ti ho ricordato un libro che tu hai scritto e pubblicato mi sembra su Amazon e parla del tuo film dieci anni dopo e io ti chiederei di citarne il titolo perché è significativo la storia di un insuccesso vuoi dire esatto perché la storia di un grande insuccesso ma ecco ma non solo non solo a me interessa perché non solo per mera curiosità ma anche per comprendere un certo tipo di mondo che è quello cinematografico che penso sia un pochino differente da quello televisivo al quale tu eri abituato e di conseguenza comprendere anche nei limiti chiaramente di quello che tu potrai dire comprenderne le problematiche gli aspetti positivi gli aspetti negativi perché poi voglio arrivare a un dunque per una domanda che è significativa immediatamente dopo al film ma questa me la riservo dopo che tu mi darai queste darai a noi curiosi telespettatori quello che tu ci andrai a dire ora ok io non credo di dare tutte le colpe alla mia debolezza fisico mentale perché sarebbe un alibi assurdo che io stesso non ammetterei però indubbiamente ho fatto un errore di valutazione morale e culturale cioè proprio qualche giorno fa parlando anche con un funzionario di Mediaset che con 30 anni di storia mi sono reso conto che forse non capivo perché ci fosse la divisione cinema e la divisione spettacolo il cinema soprattutto negli anni passati ma ancora oggi è un mestiere d'élite molto molto chiuso diciamo strutturato da padre in figlio e anche politicamente completamente a sinistra lo vedi in cinecittà lo vedi nelle scuole di cinema e una cosa di cui non mi sarei mai potuto immaginare che mentre dal mondo Disney alla televisione quindi nel mondo Disney si comprende anche il cinema alla televisione e il ritorno nel mondo Disney tutto era normale faccia parte del mondo fantastico della tv dei ragazzi del generalista il cinema quelli della televisione quelli che venivano proprio dall'interno della televisione probabilmente non erano degni cioè mentre un regista di cinema fa televisione quotidianamente anzi si arricchisce grazie alla televisione anche quando i film non vanno bene al cinema uno che ha fatto un successo televisivo non è tra virgolette degno di fare il cinema tanto vero che poi negli anni mi sono reso conto di quanto sia stato boicottato dalle regole di cinecittà dall'obbligo di usare alcune attrezzature quando io ne avevo altre a costi sicuramente minori e quanto fosse complicata il regolamento le regole ma soprattutto non quelle scritte ma quelle che poi ti trovi a vivere nel fare un film tu programmi una cosa ne vieni a fare un'altra e quindi ero inesperto inesperto morale oltre che materiale perché io pianificare un programma l'ho fatto per anni cioè venivo veramente da una decina di anni di produzioni quindi i budget scenografia costumi trovo robato attori musicisti cioè conoscevo tutta la filiera ma nel cinema è tutto diverso è più complicato tu non puoi girare più di un minuto al giorno quando in televisione si possono fare sei ore e quindi se io sono abituato a fare sei ore di diretta tu non puoi obbligarmi a non fare più di un minuto di cinema e quando io riuscivo a fare un minuto e trenta ero si parlava male perché diceva come si permette sono delle regole cioè si fanno tanti secondi per ogni ora e per un minuto ci vuole una giornata e quindi non si può spostare una camera ci vuole un quarto di pausa mezz'ora si sposta ci vuole un secondo e invece no il cinema è molto complicato anche rifare le luci da un angolo all'altro è complicato quindi io tecnicamente ero impreparato e quindi oggi ammetto dov'è l'errore fondamentale oltre ai contenuti che oggi difenderei perché oggi che vedo quello che passa in televisione quello che passa al cinema i dialetti la sgrammaticatura ma è un successo grapuloso cioè ci sono dei film che sono basati proprio sulla regola di Dreamland che poi tra l'altro devo dire che ha fatto scuola perché ancora oggi dopo dieci anni si parla di Dreamland ci sono ancora oggi gente che perde ore e ore per fare la critica su Dreamland ma poi si gira intorno a se stessa perché non vedono nemmeno il film lo giudicano così per moda vedi Maccio Capatonda tanto per dare un nome cioè ha fatto ha fatto un casino però ci sta perché sono diventato molto famoso forse ho avuto più popolarità per l'insuccesso di Dreamland per tutti i 40 anni radio e televisione e ti dico che oggi ne sono anche orgoglioso perché ce l'ho fatta cioè comunque ho dato un contributo come lo diede ai suoi tempi Pasolini come lo ha dato Fellini come lo ha dato Pupi Avati Disney è fallito due volte ha sbagliato dei film clamorosi la D23 anzi dirò di più che Disney lo volevano mettere in un manicomio lo volevano considerare non in grado di intendere di volere quindi a oggi ti devo dire che nonostante tutti gli errori di grammatica di presentazione delle voci della struttura comunque rimane nella storia e io ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato a farlo e spero che poi anche con te Alberto si possa anche riparlare di questo andando ad approfondire ogni punto e ogni angolo di questo film perché comunque è stato un momento di storia del 2011 che oggi nel 2022 ne si parla ancora ecco Sandro quindi deduco che oltre a una tua sostanziale in preparazione ma anche una mancanza di organizzazione come ti posso dire mentale per entrare in quel contesto in quel mondo cinematografico hai trovato grosse difficoltà grossi ostacoli però prima di concludere con un'altra domanda però te ne voglio fare una diciamo poco comfortable cioè un pochino così non cattiva ma che riguarda una realtà che abbiamo visto all'epoca un pochino tutti e di cui tu ne sei stato vittima partecipe cosa cosa voglio significare da quello che tu hai raccontato e da quello che poi diciamo pubblicamente conosciuto tu avevi delle prospettive e anche diciamo delle sponsorizzazioni economicamente importanti anche a livello ministeriale che sono venute meno adesso non non entriamo nel particolare ma che comunque ti sei trovato in grosse difficoltà perché ti è venuto a mancare non un guadagno ma un sostegno e da quello che sappiamo siamo a conoscenza ci hai dovuto mettere del tuo quindi grandi somme grandi sostanze economiche che poi per una serie di motivazioni che tu hai in alcune tematiche toccato il film non è andato bene e conseguenzialmente cosa è successo è successo che alcuni attori alcuni i tecnici eccetera sono stati pagati sono stati retribuiti qualcuno è rimasto indietro e da qui è nata una sorta a mio avviso di diffamazione senza avere la consapevolezza di quello che effettivamente era stato e io te lo chiedo espressamente e questa probabilmente è una occasione in cui tu puoi dire effettivamente che cosa è successo anche perché poi e qui concludo la mia domanda piuttosto articolata tu sei stato anche oggetto di critica da parte delle iene ma poi successivamente le iene si sono dovute ricredere e ti hanno dovuto concedere una replica perché perché in realtà le cose non erano esattamente come quelle che qualcuno per danneggiarti aveva espresso allora ci sono due letture una che io sono stato non imparziale ma ho cercato di anticipare per quanto mi fosse possibile fino all'ultima mia risorsa quelle che erano le maestranze alcune apparecchiature e alcune emergenze con la promessa scontata di un contributo più o meno già in qualche maniera raffigurato e poi non concesso a colpa si dice di un exequo di mezzo punto per cui si trattava di 70 71 insomma è veramente è stata una cattiveria perché diciamo che hanno fatto qualche giochetto dai ma per accontentare due che poi erano figli d'arte ne hanno fatto uno che non era nessuno ma tu hai nominato un programma televisivo tu sai quanto rispetto io ho nella televisione in cui ho lavorato per anni lì è successa una cosa più che altro di protagonismo cioè un gruppo di attori quindi escluse le maestranze e le professionalità pur di apparire in televisione hanno creato quella sorta di protesta anche andando ad alimentare delle insufficienze economiche cioè un'attrice che il cui cachet era valutato in 5.000 euro mi mette una scritta con un 50.000 un cagnolino che era lì per caso mi si mette un cachet di 1.500 2.000 euro bambini che erano venuti con la gioia di partecipare e oggi ne ho le prove perché ancora c'è una corrispondenza con i genitori mi venivano segnati con delle cifre non pattuite quindi c'è stato un blocco di attori che pur di uscire in televisione hanno trovato l'opportunità di aggredirmi ma la fregatura qual è stata per loro che io a differenza di quanti hanno questo attacco delle iene io prima di tutto ero andato lì bonariamente da Milano a Roma con tutte le mie difficoltà ma mi sono fermato a parlare con il conduttore Filippo Roma e ho spiegato subito come stessero le cose e anche dicendo che guardate che se avessi potuto l'avrei fatto ma lungo da me non sistemare gli artisti nelle giuste proporzioni ma poi anche grazie a tutta la serie di interventi tu hai vissuto questa esperienza perché io mi ricordo che sei stato molto vicino a me in quel periodo si rese conto il produttore delle iene gli autori delle iene che non si trovavano di fronte a uno che aveva preso un qualcosa ed era andato via o se era appropriato di un qualcosa per se stesso cioè io avevo già speso tutto quello che avevo prima del contributo il contributo migliorava il film e poi mi sono indebitato ancora di più per pubblicizzarlo quindi ho aggravato la situazione portando veramente a una grossa crisi della mia famiglia e nello stesso tempo rimanendo io senza né arte né parte perché non avevo più una struttura e praticamente ho perso tutto quello che potevo avere ma anche se poi potevo aver sbagliato l'indirizzo del film se magari un attore poteva essere diverso se avrei potuto fare il doppiaggio però in realtà il film l'abbiamo portato a casa e mi pento invece di una cosa molto importante che adesso mi viene in mente quello di aver snobbato le presentazioni a Roma e a Milano con i critici cinematografici ai quali avrei dovuto spiegare in anticipo prima ancora di vedere il film perché alcune scene girate in Puglia erano straordinariamente efficaci e belle e perché alcune scene rimediate non erano così partecipi aderenti a tutta la gestione del film come poteva sfuggirmi un sub negli Stati Uniti un sub moderno che passa che poi tra l'altro era guidato da Franco Columbo che io non potevo tagliare perché avrei dovuto tagliare tutta la scena del fioraio perché io non mi potevo più permettere di girare due, tre, quattro volte una scena dovevo cercare di essere molto reale non perdere tempo e un'altra particolarità che ti faccio oggi mi fa ridere e che erano uscite delle telecamere molto importanti a sostituzione delle macchine da ripresa con la pellicola le red che mi dissero che andavano raffreddate con il ghiaccio e per raffreddarli occorrevano delle ore era un modo per interrompere le riprese oggi mi fa ridere oggi la mia competenza soprattutto la mia full immerso negli Stati Uniti nel cinema nella televisione in Disney mi fa ridere quindi queste erano delle speculazioni economiche eh sì quindi per farti pagare molto di più esatto esatto la stessa cinecittà che per regolamento non fa entrare i macchinari esterni da aziende non convenzionate io avevo un accordo fantastico con una grande compagnia di riprese che aveva creduto nel film e che mi costava uno a quattro cioè praticamente la mia troupe costava uno in Cerecittà la stessa cosa mi costava quattro moltiplicato quattro è diventato un valore inestimabile per cui mi ha portato comunque a non farcela non ce l'avrei mai potuto fare perché c'era da una parte il rallentamento della produzione e dall'altra parte i costi quadriplicati e questa cosa non la potevo prevedere anche se devo dire per onestà che Columbo che aveva lavorato a Roma anni prima questa cosa l'aveva già subita per cui non so nemmeno se è un dispetto a Franco è un po' un dispetto agli americani che normalmente portano tanta risorsa tanta economia a una produzione povera e indipendente che non poteva passare la liscia comunque Sandro in ultima analisi perché penso che possiamo chiudere questa questa mia intervista a sorpresa però a mio parere utile costruttiva e per la quale tu mi sembra che ti stai diciamo dibattendo piuttosto bene prima che tu concludi io approfitto della tua grande cortesia mi sento ospite in questo momento e quindi chiedo al conduttore di poter ringraziare tutti coloro che anche per un secondo hanno creduto in questo progetto ringraziare gli attori le mie stranze anche a quelli che inconsapevolmente mi hanno danneggiato perché comunque Dreamland questo film la terra dei sogni è stato concluso è in onda su youtube e probabilmente si potrà ancora vederlo e discuterne in fase creativa produttiva e anche di formazione ecco Sandro ha in parte anticipato la mia ultima domanda ma ti fa onore questo ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito in qualsivoglia a modo alla realizzazione del tuo film io ecco da quello che oramai dopo tanti anni ho acquisito e sto valutando anche dalle critiche che oramai si sono tramutate più che altro in complimenti perché all'epoca le critiche probabilmente erano un po' faziose erano un po' spinte da chissà quali motivazioni alcune delle quali le hai già espresse tu però posso dire oggi che Dreamland la terra dei sogni è un cult movie e io sono assolutamente certo che ecco fosse stato improntato e significativamente presentato come un film metaforico come un film umoristico come un film e tu era la tua prima prima opera quindi un film dove un regista un neoregista esprimeva non solo dei valori molto importanti in cui tu credi quindi anche l'aspetto non so prodromico propedeutico dello sport i valori morali i sentimenti l'emigrazione l'immigrazione tutti questi questi bellissimi ideali ecco se fosse stato presentato come un film leggero che anticipava i tempi e che doveva essere valutato voglio dire il il cattivo che dovrebbe essere non lo so di un di un certo di una certa etnia parla in bergamasco oppure parla in un in un altro idioma italiano quindi questo doveva essere preso in considerazione e rappresentato sono convinto che ci sarà ci dovrà essere una rivisitazione di questo cult movie perché come tu stesso hai detto è stato anche una una via maestra per tanti altri registi per altri per tanti altri film e oggi oggi permettimi di dire il tuo film cioè meriterebbe l'Oscar perché ci sono delle cose a mio parere improponibili e che comunque vengono rappresentate sia al cinema che alla televisione ma se non sbaglio proprio come opera prima era stato anche candidato ad un premio importantissimo ecco ora io concluderei la mia domanda e praticamente la mia intervista sicuramente con i tuoi ringraziamenti per tutti coloro che hanno partecipato ma ti chiedo anche che cosa tu pensi del film dopo tutti questi anni e che cosa tu ti riproporresti di fare per non solo rivalutarlo ma anche per finalmente riuscire a trasmettere quei contenuti importanti sociali e diciamo anche attuali in tutti i sensi perché tu parli veramente di vita reale vita vissuta ecco quali sono le tue proposte cosa farai da grande bella allora ieri pomeriggio ad un programma con Marco Liorni si è presentata una ragazza di 31 anni che si è accorta soltanto a 31 anni di essere autistica e questa cosa mi ha fatto molto riflettere lei si presenta come red una ragazza di capelli rossi e di un difetto ne ha fatto un grande pregio io ti posso dire che a distanza di 10 anni ma sono tanti tantissimi rifarei Dreamle lo rifarei perché i valori sono innanzitutto il vero messaggio così come il discorso finale che viene fatto alle bande e alla comunità italiana correggerei un tiro di professionalità ma strutturalmente la storia molti non lo sanno è rappresentativa in quanto ogni personaggio io lo avevo raffigurato da una realtà il carrozziere il meccanico la suora la banda il giocatore di di bocce di di biliardo ma quante volte i giovani giocano a biliardo e la palla non va in buca cioè dove sta scritto che quel giocatore doveva mandare la palla in buca erano ragazzi non erano campioni erano ragazzi che andavano al bar per bersi una birra e giocare una partita di biliardo forse è credibile la palla che non va in buca di fronte a un perfetto tiro di un professionista preso magari apposta per far andare la palla in buca quindi oggi ritengo che sia molto banale e assurda la critica di quegli anni che erano impreparati probabilmente a una comicità realistica e umanistica che involontariamente c'era in me non a caso io mettevo i pugni dei cartoni animati cioè io ho una idea del cinema fondamentalmente disneyana cioè io sono per la fantasia l'immaginazione deve anche svilupparsi non puoi avere un film precisino o tutto ti devi anche immaginare che siamo in delle epoche diverse ma non importa se siamo nel 31 o nel 61 importa l'azione che realizzi quindi oggi io sarei molto più disponibile alla difesa di questo patrimonio culturale cinematografico perché comunque è un film che ha tutte le caratteristiche che ha preso i suoi premi con i suoi attori che oggi hanno un valore enorme c'è gente che non c'è più c'è il marito di Mara Venier che è un attore bravissimo ha fatto una parte straordinaria del film tra l'altro molto ben girata c'è Franco Columbo sai il mio desiderio caro Alberto è poter rappresentare ho l'olai il film Dreamland in onore di Franco poter ricominciare da capo ma raccontando perché il film è stato realizzato quali sono i problemi che abbiamo avuto tieni conto che oggi si gira con un cellulare cioè allora una troupe costava 4, 5, 6 mila euro al giorno che era una troupe leggera oggi con quei soldi lì fai tutto il film sono cambiati i tempi sono cambiati i tempi quindi si può esprimere un sentimento chiamalo tic toc chiamalo riprese estemporanea chiamalo come ti pare ma il film è molto di più di un tic toc e la storia e la vita di alcune persone che hanno emigrato c'è un bambino che lascia i suoi genitori ci sono delle scene adesso che disperate di bambini che vengono mandati e genitori che rimangono cioè staccare un bambino da un genitore è una cosa drammatica proprio tu parlando nell'editoriale l'altro giorno durante la festa della donna hai dato questo esempio della disgrazia delle difficoltà della cattiveria che c'è in giro che è tantissima l'uomo ebbene io penso che dream sia un momento distensivo divertente non va preso come il film del secolo ma sicuramente un film che ha fatto parlare dieci anni di sé in modo trasversale e anche piacevole perché no bene Sandro allora io direi che con queste tue parole di speranza e anche noi auspichiamo che ci possa essere un seguito nel senso che tu hai poc'anzi espresso allora finiamo qui questa chiamiamola così prima puntata perché no perché no di questa intervista mi hai fregato allora io torno a fare il conduttore adesso e ti ringrazio ti ringrazio dal profondo del cuore io questa intervista non l'avrei mai fatta mi è stato richiesto più volte di rilasciare un'intervista soprattutto dopo dieci anni di Dreamle quando hanno visto gli spot per quella tua fantastica idea che io di cui io ti sono molto grato ma vedi come tutte le cose esiste un padre esiste un mentore esiste colui che ti guarda dall'alto se vogliamo ma non alto alto dal quarto piano di un palazzo ecco e ti dico caro Alberto che quella serenità quella tranquillità quell'incoraggiamento tu ce l'hai dato fin dall'inizio io non ti ho ascoltato avrei dovuto ascoltarti ma credimi non l'ho fatto apposta cioè non ero prevenuto era un momento di immaturità troppo presto forse avevo bisogno ancora di qualche altro anno per crescere e ritornare artisticamente un po' più forte però tu ci hai dato una grande mano come attore e anche nella produzione hai potuto facendo un piccolo miracolo quello che veramente sono i miracoli farci portare a casa delle pellicole per poterlo proiettare quindi in portuo in buona fede ci si è creduto tutti perché notevamo soprattutto chi è stato all'estero e chi ha conosciuto l'immigrazione perché il problema è che gli italiani all'estero o li considerano dei morti di fame che non sanno fare nulla che vanno lì a fare i camerieri cosa che non fanno più o sono dei geni che invece e poi alla fine Franco è uno semplice è un sardo che è partito la casa le bandiere sarde e poi lo vedi andando nei ristoranti andando in giro vedendo le cose quindi io devo ringraziare te oggi per avermi dato questa opportunità e da conduttore ti dico che ti ringrazio per avermi reso ospite di una puntata che era la tua puntata perché io oggi avrei voluto parlare di te avrei voluto parlare del libro dell'ultimo dei dinosauri del prossimo libro che uscirà penso per l'autunno che racconta ancora di te la gente è molto curiosa abbiamo un grande successo io mi ricordo la lunga intervista e ti ringrazio ancora diciamo che bisogna ascoltare i consigli ecco forse vorrei chiudere così quando trovate un signore un professionista un uomo come Alberto Rocco Maria Sala che ti dà un consiglio io vi dico ascoltatelo perché se ti avessi ascoltato allora Dreamle oggi non avrebbe avuto il percorso che ha avuto l'avrebbe risolta molto tempo prima e probabilmente oggi festeggeremo un successo e non un insuccesso anche se l'insuccesso in successo staccando le due lettere potrebbe diventare un successo e questa è un po' la filosofia di Domenica In insieme no? Domenica In insieme e quindi in successo Dreamle Alberto Rocco Maria Sala Sandro Lavagnani e tutti coloro che hanno fatto parte di questo cast meraviglioso e che io ancora ringrazio Alberto ce l'abbiamo fatta io non ho più tempo per questa puntata per cui rimaniamo per te alla prossima io poi tra l'altro ti ringrazio per gli editoriali meravigliosi e grazie di resistere perché a sto punto qua esiste oggi WB Channel da maggio in poi abbiamo fatto miracoli oltre 3 milioni di spettatori 12 canali YouTube fortissimo la gente ci segue ogni giorno presentiamo tante persone tutte le età tutte le le classi sociali beh insomma grazie a Grazie a tutti.